Musica Cari telespettatori siamo arrivati alla quarta puntata di Occhio al Voto il programma di informazione politica locale di Fano TV che vi accompagnerà fino alle elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno anche oggi ospitiamo alcuni candidati al consiglio comunale di Fano e rappresentanza delle tre coalizioni Do il benvenuto a Luciano Benini di Bene Comune, componente della coalizione progressisti per Fano 2050 che appoggia la candidatura a sindaco di Stefano Marchegiani Buonasera Buonasera Benvenuto anche Alessandro Brandoni della Lega Fano partito che fa parte della coalizione di centrodestra per Fano a sostegno del candidato a sindaco Luca Serfilippi Buonasera a lei E cora fattori di Più Europa, lista civica F che appoggia il candidato a sindaco Cristian Fanesi vincitore del primario del centrosinistra Buonasera a cora Do il benvenuto anche a Massimo Foghetti giornalista storico del Corriere Adriatico e nostro collaboratore Grazie per la presenza Buonasera Passiamo come sempre alle biografie Luciano Benini, 69 anni, laureato in fisica ed è specializzato in fisica sanitaria e ambientale già dirigente dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle marche è coordinatore politico di Bene Comune Benini è stato il promotore del commercio equo e solidale nel Friuli Venezia Giulia nell'85 e poi a Fano nel 90 promotore anche dell'iniziativa politica Progetto per Fano nell'anno successivo è poi stato assessore alle politiche sociali e giovanili del comune di Fano dal 95 al 99 successivamente è stato presidente nazionale del movimento internazionale della riconciliazione il movimento di Martin Luther King sempre nella sua carriera politica è stato consigliere comunale per i Verdi a Fano dal 99 al 2004 e consigliere per la lista civica Bene Comune dal 2009 al 2014 Benini è stato l'ideatore e responsabile della scuola di pace del comune di Fano nel 98 e della diocesi dal 2004 è stato anche l'ideatore e responsabile del centro di documentazione sala della pace della Caritas di Fano oggi è presidente dell'associazione banca del gratuito che da 25 anni gestisce casa Nazareth e la spiaggia dei talenti inoltre è membro fondatore del forum provinciale per i beni comuni e formatore di giovani in servizio civile e volontari in partenza per l'Africa Passiamo ad Alessandro Brandoni, 44 anni, papà di Daniele e Angelina è nato a Fano, città in cui ha sempre vissuto ad eccezione dei 4 anni che ha trascorso a Bologna dove si è laureato in scienze statistiche ed economiche dopo gli studi ha lavorato per 10 anni come dipendente di un istituto di credito locale per poi scegliere nel 2015 di intraprendere la libera professione come consulente finanziario oltre che per lo sport e la pesca ha sempre avuto la passione per la politica da ragazzo è sempre stato rappresentante degli studenti e poi responsabile sindacale della banca in cui lavorava nel 2018 ha scelto di aderire alla Lega Fano per portare avanti in maniera attiva il suo impegno politico è stato prima responsabile della comunicazione della sezione di Fano poi due anni fa è stato eletto segretario politico mi sono candidato al Consiglio Comunale, ha dichiarato Brandoni perché penso che attraverso la mia professionalità, il mio carattere e il mio vissuto posso dare un contributo per concretizzare le idee portate avanti in questi anni di opposizione e invertire quel declino economico, sociale e demografico in cui è stata portata la città di Fano questa è la biografia di Brandoni, passiamo a Cora Fattori 43 anni, è nata a Fano, si è laureata in Ingegneria Edile e Architettura all'Università Politecnica delle Marche e ha fatto due corsi di specializzazione per diventare tecnico componente in acustica e progettista antincendio grazie alla tesi di laurea si è specializzati in efficientamento energetico degli edifici lavorando in questo contesto come ingegnere nel 2014 ha aperto il primo co-working a Fano uno spazio di lavoro condiviso in cui sono state organizzate negli anni diverse iniziative dal 2016 al 2018 ha organizzato la manifestazione Aria, la casa consapevole in cui tante imprese del territorio che lavorano nel mondo della casa e dell'edilizia potevano farsi conoscere nel 2019 è stata eletta consigliere comunale e membro di Pio Europa di cui è coordinatrice regionale dal 2024 a fine 2022 ha ricevuto la delega di assessore a cultura, ambiente e digitale un'esperienza breve, ha dichiarato, ma che ha visto da subito una grande operatività Fattori che si è messa in gioco per le primarie del centro-sinistra ora si presenta come candidata al consiglio comunale con la lista civica F come sempre garantiremo lo stesso spazio a ciascun candidato mediante un timer Massimo a te una domanda subito, entriamo nel nostro dibattito una domanda comunque introduttiva volevo tanto per caratterizzarvi ognuno di voi rappresenta una forza politica quella quale è entrato nell'ambito di una coalizione ebbene io vi chiedo a che cosa avete chiesto in via prioritaria agli altri partiti che fanno parte del vostro gruppo in modo che diate qualcosa di vostro nel programma che poi eseguirete e se vincerete le elezioni nel corso della prossima tornata amministrativa Allora in questo caso avete due minuti inizia Luciano Venini poi Brandoni e Fattori Prego Ma per noi storicamente è sempre stato importante il programma io capisco che poi molti non lo leggono neanche invece per noi è proprio il punto da cui partire e sin dalla nostra nascita ormai più di vent'anni fa siamo partiti con l'idea che un programma dovesse articolarsi su due grandi temi il sociale e l'ambientale e due grandi metodi la trasparenza e la partecipazione quindi il nostro programma è sempre stato articolato così perché in questo momento siamo voluti entrare nella coalizione progressisti per Fano perché sulla base di questi due programmi e due metodi abbiamo ritenuto che ci fosse la possibilità di stare insieme quando abbiamo proposto questa modalità abbiamo trovato una grande rispondenza perché sociale e ambientale beh la nostra idea di sociale poi magari ne entreremo più nel dettaglio la nostra idea di sociale è che tutta una città debba occuparsi del sociale perché la logica è chi è più fragile chi ha più difficoltà beh deve poter essere in cima ai pensieri di un'amministrazione l'ambiente perché non è solo il luogo dove viviamo ma è anche il luogo da tutelare, da valorizzare da molti punti di vista perché trasparenza e partecipazione? beh noi siamo convinti che sia sbagliata la logica di prendere i voti e dire grazie, arrivederci, ci rivediamo fra cinque anni no, noi siamo convinti che bisogna coinvolgere la popolazione in ogni istante della vita pubblica e da questo punto di vista credo le carenze sia negli anni della giunta Aguzzi e quella della giunta Seri sono state grandissime trasparenza pochissima partecipazione direi vicino a zero perché abbiamo sempre chiesto riattiviamo i consigli di quartiere applichiamo i principi dell'amministrazione condivisa ecco tutto questo purtroppo non c'è stato ed ora passiamo Alessandro Brandoni, prego noi alla coalizione non abbiamo chiesto qualcosa di particolare perché stiamo portando avanti ormai da mesi anzi direi da un anno tutti insieme un programma condiviso un programma partecipato molti degli obiettivi che ci siamo dati che sono anche gli slogan che fanno parte della coalizione Perfano sono quelli che sono state sempre le battaglie che abbiamo portato avanti in consiglio comunale o attraverso comunque l'opposizione politica certamente ci sta molto a cuore il tema della sicurezza perché è un tema che è nel DNA della Lega ci sta molto a cuore quello che è il tema dell'economia e quindi della piccola imprenditoria e di tutto quello che riguarda il commercio battaglie su cui ci siamo impegnati anche nelle passate elezioni che ci hanno visto sconfitti ma che abbiamo ripreso quindi i temi sono tanti e sono anche articolati saranno articolati poi ci sono delle tematiche che stanno particolarmente a cuore a me come persona, come candidato che non mancherò di portare avanti che sono i temi delle infrastrutture sportive che sono i temi del sociale che sono i temi, visto che il collega Benini ha parlato di partecipazione una cosa che sicuramente sarà nel nostro programma di governo di tutta la coalizione è quella dell'introduzione appunto dei consigli di quartiere perché riteniamo che l'ascolto che è mancato in questi anni sia assolutamente fondamentale e che i cittadini debbano poter essere informati su quello che si va a realizzare prima che le cose siano fatte quando arrivano i progetti esecutivi quindi l'impegno sarà assolutamente su questo lato e altre tematiche poi le scopriremo tutti insieme quando ci sarà il programma, verrà presentato il programma di coalizione e quindi diciamo che queste sono le cose che più ci premono Grazie Brandoni, il tempo di riavviare il timer passiamo ancora a fattori Bene, dal colloquio con i miei colleghi di coalizione anche con il neocandidato Cristian Fanesi è emersa da parte di EFE e di Pio Europa una necessità che è stata ben compresa e condivisa che è quella di affrontare le tematiche in maniera complessa e professionale queste sono due cose fondamentali ci vorranno delle professionalità dedicate perché quando si hanno professionalità visto che i temi di una città sono temi complessi che vanno analizzati e studiati chi prima di me ha elencato delle tematiche ha parlato di cose assolutamente giustissime a partire dall'ambiente, dal sociale, dalla sicurezza, dallo sport ebbene non sono tematiche tra loro separate hanno bisogno sì di avere delle persone dedicate con professionalità ma allo stesso tempo ci vuole la complessità di pensiero di capire che sono tra loro connesse e ci vuole la consapevolezza che per risolvere dei problemi e di affrontare delle questioni bisognerà andare al nocciolo e capire con le giuste professionalità dedicate come farlo in passato abbiamo affrontato tematiche ambientali affidandoci a delle professionalità specifiche i risultati sono stati incredibili abbiamo affrontato con serietà e professionalità tanti aspetti in questo brevissimo tempo dalla cultura all'ambiente al digitale e i risultati sono arrivati e questo bisognerà fare e bisognerà avere un sistema di lavoro che sia sincrono e condiviso proprio per rispettare questa complessità di governo dalla nostra abbiamo una squadra di persone esperte che già hanno lavorato insieme e su questa strada lavoreremo ancora bene, sono delle differenze però abbiamo visto per esempio che il sociale è presente in tutte e tre le coalizioni allora parliamo un attimo di sociale cerchiamo di approfondire l'argomento è in questo momento in atto una rilevante trasformazione dell'ambito sociale numero 6 che comprende nove comuni e sappiamo che Fano è capofila l'ambito non si chiamerà più ambito ma si chiamerà ASP che vuol dire azienda servizi alla persona è una trasformazione questa non solo nominale ma sostanziale ebbè qualcuno ha sollevato anche delle obiezioni che cosa ne pensate voi di questa trasformazione? Benini no scusate, Brandoni comincia noi innanzitutto per quello che riguarda la creazione dell'azienda di servizi alla persona non ci siamo mai opposti noi abbiamo constatato che c'erano alcune diciamo problematiche tecniche e c'erano dei rilievi politici quello che riguarda diciamo l'aspetto tecnico è il fatto che abbiamo l'idea e vorremmo nel prossimo futuro portare alla coincidenza dell'azienda con quelli che sono i distretti sanitari perché è una cosa che è assolutamente necessaria per farlo lavorare al meglio e dal punto di vista politico la questione che è stata sollevata che poi ha portato in fin dei conti a un nulla di fatto a bloccare tutto per il momento è il fatto che si volesse andare a forzare l'istituzione di questa azienda per poter portare un amministratore unico prima delle elezioni amministrative un amministratore unico che avrebbe gestito qualcosa mi pare intorno ai 15 milioni di euro all'anno quindi avremmo avuto una figura che senza avere concertazione con tutto quello che riguarda il terzo settore con tutte le associazioni tutti gli enti che ne girano attorno avrebbe gestito delle risorse importantissime in maniera praticamente autonoma quindi noi ci siamo opposti a questa soluzione e siamo assolutamente contrari quindi dobbiamo avere un'azienda dobbiamo avere una nuova SP che coincida con i distretti sanitari è un'azienda che sia abbia un controllo da parte della politica non ci può essere una persona sola che gestisce tutti questi soldi Fattori Allora sulla coincidenza tra sistemi tra ambiti sociali e ambiti sanitari la posizione di chi mi ha preceduto è analoga alla mia certo auspichiamo che la regione acceleri questo processo perché è un processo che non dipende dalle amministrazioni comunali ma appunto da quelli regionali tra l'altro questa amministrazione nell'ambito sociale 6 sta già lavorando anche con l'ambito sociale 7 proprio per avviarsi in questa direzione perché condividiamo questo aspetto di coincidenza ma dobbiamo chiederci il perché perché è importante questo aspetto di coincidenza proprio perché il settore sociale e quello sanitario devono andare di pari passo nella cura della persona della persona non va curata solo la patologia o la malattia ma va proprio dedicata attenzione e rispetto alla persona in questo è necessario un passo avanti nell'ambito sociale proprio nella sua organizzazione dal punto di vista pratico ad oggi è stato molto complesso gestire tutto il comune di Fano si è fatto carico di costi e oneri che ha fatto con spirito di dovere anche nei confronti di altre amministrazioni come capofila dell'ambito ricordiamo che l'ASP è stata una misura richiesta proprio anche dagli altri comuni per poter garantire un servizio alla persona migliore non è esattamente vero quello che ha detto chi mi ha preceduto cioè che ci sarebbe un'unica persona sola al comando anche se diciamo che ad alcuni potrebbe piacere questo principio che poi dopo gestisce questa quantità di risorse o altro resterà fondamentale il colloquio e il confronto con il terzo settore su questo bisognerà lavorare ulteriormente proprio per ottimizzare e rendere più efficace la cura e l'accudimento della persona e il rispetto della persona in quanto tale quindi se ci sono delle realtà che lavorano con i giovani o con gli anziani sarà bene farle coordinare e lavorare assieme all'ASP passiamo adesso a Benini ma l'unica cosa che condivido di quello che hanno detto i colleghi è il fatto che ci vuole una coincidenza tra i distretti sanitari e il sociale aggiungerei anche i centri per l'impiego perché lavoro, sociale, sanità devono appunto sono in qualche modo il totale di una persona per il resto non condivido nulla secondo me è un passo indietro di 30 anni andare all'azienda l'azienda ha fallito nel settore della sanità la vogliamo riproporre nel settore del sociale mi sembra abbastanza incredibile ma soprattutto c'è una questione di metodo la legge addirittura oggi prevede espressamente che si debba prima attivare l'amministrazione condivisa e invece in questi anni di amministrazione seri non è stato fatto nulla da questo punto di vista quindi ci siamo ritrovati l'imposizione di un'azienda alla persona senza aver attivato l'amministrazione condivisa cioè senza che il terzo settore sia stato coinvolto in questo processo aggiungo un'altra cosa è una logica perversa perché io ricordo una campagna elettorale di Berlusconi che aveva questo slogan aiutare chi è rimasto indietro ecco non mi sorprende che la destra apprezzi l'azienda la persona perché è una modalità tipicamente di destra cioè tutti corrono tutti contro tutti poi se qualcuno resta indietro lo aiutiamo con un po' di servizi ma il sociale non è servizi il sociale è tutta l'amministrazione tutta la città deve essere coinvolta in questo processo affinché nessuno resti indietro se io lascio come purtroppo le amministrazioni Aguzzi e Seri hanno lasciato la città piena di barriere architettoniche poi come li aiuto coloro che non riescono a muoversi in città quindi noi siamo proprio contrarissimi a questa soluzione e vincendo le elezioni certamente torneremo assolutamente indietro perché è veramente una scelta che noi consideriamo molto molto negativa bene allora direi di approfondire un po' la questione parlando soprattutto degli anziani perché è un strato della popolazione che aumenta sempre più e purtroppo aumentano anche le patologie legate agli anziani in modo particolare quelle croniche ebbene in questo caso quando un anziano si ammala e questo parlo di tutte le strati sociali poveri, ricchi meno poveri eccetera perché poi quando uno fa riferimento alle strutture non trova accesso perché sono piene perché sono intasate perché non hanno più posto ebbene allora io vi chiedo cosa si può fare per quelle famiglie che non possono più sopportare l'onere dell'assistenza dentro casa perché non gliela fanno perché non hanno possibilità poi di rinunciare al lavoro perché altrimenti poi vanno in miseria non hanno nemmeno la competenza di poter assistere un anziano per esempio che si ammala di una patologia mentale ed è difficile curarlo difficile tenerlo a Fano manca tra l'altro una RSA come pensate di affrontare questo problema io darei per primo la parola a Cora Fattori conosco bene la tematica perché insomma è una tematica che ha colpito anche una sfera assolutamente vicina al mio personale quindi ma è una tematica che chi fa politica non può non conoscere e vive attiva i numeri tu Massimo hai parlato di anziani in realtà i numeri anche nel caso di patologie pensiamo solo all'Alzheimer si sono abbassati tantissimo nell'età media e questo è un indicatore importante di cui ci dobbiamo ricordare l'altra cosa di cui ci dobbiamo ricordare è perché esiste una pubblica amministrazione perché esiste un servizio pubblico esiste per dare un aiuto un supporto a quella che è la città a quelli che sono i cittadini ecco l'RSA in tutto questo ha una mission che non è quella di curare come ho detto anche prima una patologia ma quella di accudire una persona sono due cose diverse ad oggi a noi serve una struttura a Fano e nel territorio che accudisca e questo è molto diverso da quello che purtroppo molte volte avviene e che è successo anche gravemente dopo il Covid pensiamo al fatto che noi non possiamo molte volte se abbiamo un anziano che viene ricoverato e viene curato e a volte accudito ma non necessariamente sempre e per fortuna ci sono dei casi positivi ma in mezzo ce ne sono anche altri meno positivi ricordiamoci che a volte è difficile anche andare a far visita al nostro caro e questo è molto importante ma un'amministrazione dovrà essere capace di fare squadra con queste strutture io penso semplicemente al museo e molte volte ci sono realtà in cui l'arte e la cultura aiutano nell'accudimento e nella cura della persona e di questo un'amministrazione ecco cosa significa cogliere la complessità dei vari temi unire le tematiche tra di loro che sembrano staccate passiamo la parola adesso a Benini ma io ho avuto l'avventura di fare l'assessore alle politiche sociali dal 95 al 99 già nel 99 il problema degli anziani era un problema così sentito e così importante che io lasciai l'assessorato con il finanziamento pronto per partire per un RSA per anziani Residenza Sanitaria Assistenziale di 60 posti se dopo più di 20 anni questa struttura non ce l'abbiamo io credo dobbiamo chiederne conto alle giunte a Guzzeseri che hanno deciso di spendere soldi in altro modo piuttosto che in questa struttura così fondamentale per Fano ma aggiungerei in realtà le strutture che servono per Fano sono tre oltre all'RSA per anziani c'è quella per l'Alzheimer perché è un problema molto molto sentito dalle famiglie che spesso sono in situazioni disperate e la terza è quello che si chiama hospice pediatrico per bambini noi abbiamo diversi bambini a Fano che sono curati lontano ci sarebbe la possibilità di realizzare a Fano questa struttura importantissima sono anni che sembriamo sembra sempre che siamo sul punto finalmente di realizzarla ma ancora non ce l'abbiamo ecco io credo che un'amministrazione quando ha a disposizione un sacco di soldi come l'amministrazione seria ha detto di aver avuto addirittura aver fatto centinaia di milioni di opere beh credo che questa vada intesa come una grave accusa avevi tutti questi soldi a disposizione hai fatto qualche piazzetta qualche pavimentazione qualche zona un po' abbellita e sicuramente per esempio il Pincio è una buona realizzazione della giunta seri ma sono rimaste in evase tutte le grandi questioni di Fano queste nel sociale che abbiamo citato ma pensiamo al Palazzetto il Vittorio Colonna l'ex caserma Paolini tutta la questione ambientale dal parco dell'aeroporto eccetera ecco veramente si poteva fare molto di più sempre sullo stesso argomento Alessandro Brandoni io riprendo le parole dei colleghi per ricollegarmi partendo da un dato attualmente mi risulta che a Fano ci sia il 26% della popolazione che ha più di 65 anni se c'è una proiezione c'è una proiezione attendibile che questo dato tra 10 anni diventerà del 42% quindi questi sono i numeri poi c'è l'esperienza personale che condivido con la collega fattori che è quella personale che io vedo il dramma delle famiglie che si trovano ad affrontare il problema il problema dell'anzianità di seguire una persona che è raggiunta a una certa età o una malattia o proprio per l'età ha dei problemi e quindi diventa veramente un dramma sociale detto questo c'è un dato politico che è questo Benini parlava di soldi che erano stanziati nel 1999 non andrei così indietro andrei al 2018 il protocollo della sanità che è stato firmato dall'attuale sindaco Seri e dall'ex presidente della regione Ceriscioli prevedeva per Fano 40 posti di RSA che non sono stati trasformati che non sono stati messi in campo noi come centrodestra ci impegniamo una volta eletti ad aprire immediatamente un tavolo con quelli che sono gli enti privati adesso senza andare a precisare con chi ma abbiamo le idee ben chiare sappiamo che in linea di massima ci può essere la disponibilità e quindi sicuramente andremo a risolvere questo problema ho poco tempo per concludere per replicare Benini ma per quello che riguarda anche l'ospice pediatrico anche questa è una cosa che la regione sta portando a termine sta arrivando alla progettazione per cui a Fano avremo l'ospice pediatrico unico in centro Italia quindi le risposte stanno arrivando anche per quello che riguarda la sanità sia nell'ambito appunto di quello che è l'anzianità sia nell'ambito di quello che purtroppo sono le incontrano le famiglie che hanno dei bambini che hanno queste problematiche gravissime e che altrettanto come quelle degli anziani contribuiscono anche a creare dei problemi all'interno stesso del nucleo familiare grazie Brandone noi ci dobbiamo fermare per qualche istante rimanete con noi a tra poco Bentornati ad Occhio al Voto Massimo proseguiamo pure con le domande prego Sì dalla disabilità che abbiamo trattato fino adesso passiamo all'efficienza fisica ovvero allo sport in città ci sono molti cittadini che praticano sport io stesso li vedo al mattino all'alba quando ancora il sole non è sorto praticare footing per le vie cittadine ma io dico questo come intendete praticare incrementare anzi valorizzare le strutture sportive della nostra città e non mi riferisco soltanto agli sport più praticati come il volley il calcio eccetera ma anche a quelli e sono molti che offrono ai giovani una scelta molto molto variegata sono sport minori di cui magari si parla poco ma che hanno bisogno delle strutture direi di iniziare questa volta da Benini la nostra idea di sport è sempre stata fortemente legata al sociale è vero che le grandi attività sportive che arrivano anche a un certo livello penso ai principali sport se arrivano a un certo livello nazionale poi coinvolgono magari i giovani ad avvicinarsi allo sport ma la nostra idea di sport è sempre stata appunto alla valorizzazione dell'aspetto sociale dello sport penso agli anni in cui avevamo coinvolto gli allenatori sportivi come diciamo presidi assieme agli insegnanti delle scuole del disagio giovanile del disagio dei bambini addirittura perché questo contatto li aiuta a capire subito i primi problemi appunto di bambini e adolescenti l'altro aspetto che secondo noi è importante è fare in modo che ci siano spazi di sport libero cioè le palestre che nel tempo sono sicuramente cresciute rispetto ai miei tempi in cui sostanzialmente c'era solo la Borgo Metauro beh dovrebbero mantenere dei momenti degli spazi di gioco libero questo è importante perché non tutti si possono permettere poi di poter pagare un'associazione per appunto utilizzare lo sport l'altro aspetto che è mancato devo ancora dire mettere assieme di nuovo a Guzzi e Seri perché un palazzetto degno di questo nome che non è solo per lo sport ma anche per i grandi eventi ancora manca a Fano non stiamo parlando di strutture gigantesche come può avere Pesaro no a noi interessa una struttura da 2.000 3.000 posti massimo che però possa servire sia per le attività sportive che arrivano a un certo livello ma anche per eventi congressuali eccetera ecco a me sembra che questi sono gli aspetti più significativi dello sport nella nostra città Brandoni riparto da quello che ha detto Benini anche noi siamo assolutamente d'accordo che per quello che riguarda diciamo così le grandi opere manchi un cosiddetto palazzetto dello sport io lo definirei un auditorium e questo non significa che debba essere a vantaggio delle grandi società perché deve essere uno spazio che consenta a tutte le società dei vari sport e anche quelli cosiddetti minori di poter allenarsi di poter creare degli eventi e di poter portare su Fano un turismo mi ricordo che nel corso della campagna elettorale 2019 qualche assessore che oggi è candidato sindaco mi fidò dicendo che il palazzetto dello sport sarebbe arrivato io ancora non l'ho visto toccherà a noi probabilmente metterlo a terra tra l'altro ricordo che la regione Marche con un ordine del giorno ha messo 2 milioni di euro per la progettazione e la realizzazione di questo impianto quindi siamo assolutamente determinati a portarlo condivido anche l'idea che riguarda l'accessibilità allo sport non esiste a Fano una struttura una volta c'erano i campetti si andava a giocare a calcio con gli amici o fare qualche altro sport c'era più un libero accesso adesso queste strutture quelle poche rimaste sono completamente abbandonate e quindi per i ragazzi non c'è la possibilità comunque di poter giocare liberamente se non andandosi a tesserare con qualche con qualche società quindi anche quella è una cosa da portare avanti il problema delle infrastrutture sportive poi riguarda anche io lo dico sempre lo stadio Mancini su cui sono stati spesi dei soldi in questi anni anche importanti ma il risultato è che comunque abbiamo gli spogliatoi dove si piove dentro e è una gradinata completamente incompleta e parlavo ieri con alcune associazioni sportive che sono costrette ad allenarsi in palestre di scuole spostando in continuazione il materiale che hanno che utilizzano e anche questa è una questione che va assolutamente risolta tutti devono avere i loro spazi e tutti devono potersi allenare ancora fattori bene sono contenta di sapere che la regione ha fatto un bando per un paio di milioni di euro per il palazzetto se lo avesse fatto prima forse ne avremmo potuto usufruire quindi è una buonissima notizia e speriamo ecco non sia arrivato alla fine per altri motivi e detto questo mi permetto di controbattere un attimo a un aspetto di cui si parlava nella domanda precedente e si è parlato di sanità e ricordo un tema molto che la sanità è un tema molto vivo e ricordo tutta la questione dei posti letto per la quale il comune di Fano ha fatto ricorso al TAR sono stati riconosciuti ad una clinica privata di Pesaro votato anche da insomma rappresentanti pesaresi dei miei colleghi qui a fianco posti letto per la clinica privata a Pesaro ma la presenza di quei posti letto automaticamente rischia di levare i posti letto a Fano ecco quello che io auspico è che ci sia da parte di tutte le forze politiche la reale volontà di ragionare su una tematica come questa e non solo attraverso i proclami detto questo per quanto riguarda i tanti lavori fatti in questi cinque anni dall'amministrazione ovviamente quelli sono fatti anche sulla base delle possibilità arrivate da bandi quindi qualora fosse arrivata magari una possibilità come quella detta poco fa avremmo partecipato potremo partecipare in futuro grazie Corra Fattori prendo io la parola per farvi una domanda sappiamo che è la città di Fano è la città delle bambine e dei bambini è anche una città adatta alle famiglie pensiamo alle vacanze ma possiamo dire la stessa cosa dei giovani tra l'altro molti ragazzi sono alla ricerca di un lavoro di opportunità ma anche del divertimento che spesso li porta fuori città o fuori regione come in Emilia Romagna abbiamo spazi aggregativi adeguati o è necessario fare qualcosa di più stessa cosa per le iniziative ludiche e culturali parte Brandoni avete due minuti di tempo per i giovani vale lo stesso concetto su cui sono partito per gli anziani che non c'è un'analisi precisa di quelle che sono le esigenze dei giovani allora noi non sappiamo quanti giovani vanno a lavorare vanno a lavorare fuori non sappiamo quanti giovani che domanda che tipo di aspirazione hanno non sappiamo che tipo di domanda c'è da parte delle aziende dell'impiego giovanile quindi purtroppo assistiamo a un fenomeno di migrazione dei giovani molto importante per quello che riguarda quelli che rimangono che io molto spesso definirei hanno il coraggio di rimanere in questa città e non c'è negli ultimi anni quello che è stato fatto è stato quello di cancellare il tavolo di concertazione con i giovani la consulta dei giovani per capire le loro esigenze che era stato istituito tra l'altro dal nostro candidato sindaco Ser Filippi quando aveva quella delega come assessore quindi i giovani sono stati i grandi e rimangono sempre quelli che vengono chiamati in campo in tutte le campagne elettorali ma sono sempre quelli che poi non vengono non vengono ascoltati le risorse investite attualmente sono molto poche perché mi risulta che sul progetto Dedalo gestito tramite alla Mediateca Montanari ci sono qualcosa come 45 mila euro una cifra assolutamente insufficiente che serve per pagare chi lavora ma non porta ad avere altri progetti quindi il nostro impegno è rilanciare la consulta dei giovani creare degli spazi aggregativi che non ci sono nei quartieri e impegnarci perché i giovani possano trovare delle alternative lavorative nella nostra città e rimanere qui piuttosto che dopo aver studiato andare fuori abbiamo il tempo come sempre di riavviare il timer passiamo ancora a fattori mi dispiace che il mio collega dica che non ci sono determinati dati forse se vuole glieli passo perché in realtà ci sono perché noi come amministrazione abbiamo fatto un programma un progetto con UNICEF lo stiamo facendo in cui c'è una progettazione che parte dai bambini e arriva all'età degli adolescenti è un percorso che è stato iniziato cinque anni fa per l'appunto in collaborazione con UNICEF e proprio guardando tutti i vari settori è un percorso perché per fare le cose fatte bene bisogna intraprendere una strada che è molto spesso e complessa detto questo è vero che su Dedalo c'è una cifra che è stata investita ma non è solo Dedalo la realtà lavorativa e tra l'altro è una cifra che non è così bassa e così piccola anche se personalmente in questo concordo l'aumenterei perché i funzionari e gli operatori stanno facendo un ottimo lavoro ricordiamoci qual è il focus anche per Fano relativo ai giovani cioè i giovani tornano a lavorare a Fano perché noi abbiamo un comparto di ingegneria e di lavoro che li sta facendo tornare non solo ne attrae anche da fuori sono ovviamente come li chiamo giovani o diversamente giovani perché magari già hanno superato i 30 anni con un'altra formazione e così anche per la nautica settori che sono ripartiti e cresciuti fortemente a questo dobbiamo unire più che la consulta dei giovani che va bene ma se deve essere un progetto fatto per decidere quali serate e gogliardi che fare per carità mi piace divertirmi ma è altro dobbiamo fare dei centri di aggregazione multifunzionali che permettano di fare una crescita in più e unire il divertimento alla professionalizzazione allora si ottengono risultati concreti e questo pensavo di aver finito il tempo visto adesso che invece c'è un po' più di tempo e allora si ottengono risultati concreti in cui i ragazzi possono affrontare laboratori culturali laboratori formativi professionali in tutto unendo università ITS e la formazione professionale scolastica ora è scaduto perfettamente nei due minuti due minuti anche per Benini ma io sono stato appunto assessore alle politiche sociali e giovanili dal 95 al 99 noi avevamo aperto diversi centri per adolescenti e centri per i giovani questo è sicuramente un aspetto importante purché ecco la nostra idea dei giovani non sia noi adulti decidiamo cosa serve ai giovani no ecco noi avevamo attivato un protagonismo giovanile persino nell'età dell'adolescenza dove magari è più difficile perché è fondamentale che i giovani si sentano protagonisti delle loro scelte voglio citare un esempio molto bello nella nostra città quello del poderino dove una situazione di disagio adolescenziale giovanile si sta affrontando con una modalità diversa io non voglio dire che non servono nella città telecamere controlli certo che servono perché se una città non ha la sicurezza è la base diciamo è la condizione necessaria anche se non sufficiente per una città bella e vivibile ecco però in quel quartiere hanno deciso non di attaccare i giovani che magari o adolescenti che si comportano magari in modo non perfettamente regolare ma cercare di coinvolgerli allora questo vostro disagio come può essere incanalato quali sono le aspettative che avete ecco questo mi sembra un buon modo di interpretare il disagio giovanile sull'altro aspetto invece è quale futuro per i giovani quelli di unità più alta che quindi si aspettano di trovare dei lavori significativi beh da questo punto di vista non so se ne parleremo credo che il PRG e il piano regolatore abbia fatto una scelta sbagliata perché nell'area dello zuccherificio si era pensato di creare una sorta di area di ricerca su tutto il settore innovativo dell'idrogeno della tecnologia delle nuove tecnologie e purtroppo invece sembra che sia diventato un luogo dove gireranno camion bene proponiamo un altro argomento che sta sempre molto molto a cuore soprattutto ai cittadini di una certa età quello dei lavori pubblici sappiamo come fanno una predilezione soprattutto per la cura e la manutenzione delle strade ma non vi voglio soffermare su questo argomento voglio parlarle in generale porterete a programma l'intenso porterete a conclusione l'intenso programma che è stato avviato dall'amministrazione comunale oppure proporrete qualcosa di alternativo qual è il vostro atteggiamento la vostra convinzione sulla validità di quello che si sta facendo se è giusto non è giusto o dovrebbe essere cambiato direi di cominciare da Cora Fattori bene no cambiamo tutto no ovviamente sto scherzando guai a cambiare tutto in che senso i lavori iniziati e i lavori che sono partiti e per i quali si sono ottenuti tutti i finanziamenti non fermiamoli perderemo dei contributi importanti che servono alla città in tutto questo i lavori pubblici che adesso sono preseduti dalla mia collega Barbara Brunori che ringrazio per il grande lavoro che ha fatto ad oggi è importante che siano rivisti come parte della pubblica amministrazione ci vorrà e questo è molto importante una divisione dei lavori pubblici a mio parere poi spero che il candidato sindaco e il resto della coalizione appoggino questa visione in ordinaria manutenzione e straordinaria manutenzione e questo sarà fondamentale perché l'ordinaria manutenzione che è quella che poi dopo passa per la gestione delle famose buche ma delle scuole dei cimiteri delle palestre di quant'altro abbiamo fatto talmente tanto affano che è diventato importante e imprescindibile dedicare un comparto a quello poi abbiamo la straordinaria manutenzione le nuove opere che non si devono fermare abbiamo parlato fino adesso anche di nuove realizzazioni che pensiamo da quelle sportive non solo e quindi sarà importante avere un ufficio anche dedicato a quello e questi due binari dovranno coordinarsi e lavorare ma soprattutto sarà importante il sistema di qualità aziendale al suo interno e come sarà strutturato l'ufficio e questo andrà fatto in concertazione con tutta la parte dirigenziale non solo dei lavori pubblici ma dell'intero comune dobbiamo imparare e questo è un problema della politica in generale a lavorare in maniera diversa in maniera trasversale ed è un problema delle pubbliche amministrazioni non solo fanesi perché basta leggere i report arrivati col PNRR è un problema delle pubbliche amministrazioni italiane motivo per cui il PNRR prevede anche delle specifiche azioni su il tema di qualità aziendale ora sembrano temi astratti ma se noi non capiamo quali sono le possibilità economiche che ci permettono di realizzare degli obiettivi e perché sono importanti le buche non le chiuderemo mai perché il problema delle buche ce le va l'amministrazione Guzzi il problema delle strade ce le va l'amministrazione Carnaroli il problema delle buche ce l'ha l'amministrazione Seri vogliamo risolverlo questo problema vogliamo rivedere tra 5-10 anni a dire che l'amministrazione uscente non ha sistemato le buche ecco questo è un modo operativo di andare a fondo della questione e poi sono d'accordo diciamo che le sospensioni della mia macchina quella qualche problema l'hanno avuto però bisogna anche vedere il complesso dei lavori e quello che sarà la città fra pochi mesi sì comunque oltre le buche c'è anche il processo di trasformazione della città il processo dell'immagine eccetera era per rendere l'idea passerei la parola a Luciano Benini ma si dice che una città va amministrata come il buon padre di famiglia o forse andrebbe meglio detto come la buon madre di famiglia che in genere è quella che amministra una casa perché dico questo perché come in ogni famiglia un comune deve prima partire da quello che ha a disposizione allora noi crediamo che bisogna che sia assolutamente necessario attivare dei gruppi di persone che siano in grado di progettare perché la progettazione è fondamentale per poi ricevere i fondi per riuscire poi a fare le opere che uno ha in mente quindi partiamo da dove andiamo a prendere i soldi il PNR il PNRR ce ne aveva dati tanti bisognerà ripartire da una buona progettazione per intercettare i fondi europei nazionali e regionali poi sul che cosa fare beh qui chiaramente la politica è fare scelte le scelte che hanno fatto le ultime amministrazioni a noi non ci hanno convinto perché perché quell'elenco delle cose necessarie per Fano che io mi sono andato a rivedere che erano vent'anni fa quando arrivò la prima giunta a Guzzi ce l'abbiamo ancora tutte sul tavolo quindi sono le stesse priorità di oggi alcune le abbiamo citate altre il parco dell'aeroporto la connessione fra le piste ciclabili parco del Metauro parco dell'Arzilla e quindi questo mi sembra che sia un po' quello che noi dovremmo fare poi quello che un buon padre di famiglia non avrebbe mai fatto è distruggere l'anfiteatro Rastat cioè io non so come possa essere venuto in mente a qualcuno di andare a sprecare soldi per distruggere qualche cosa che funzionava penso solo ai miei figli e le mie figlie che l'hanno utilizzato tantissime volte per sfilate di moda per la danza per incontri io stesso per incontri di vario genere abbiamo sprecato soldi per distruggere qualcosa che c'era quindi io credo che quello che bisognerà fare nella prossima amministrazione sia mettere da una parte investimenti per intercettare progetti dall'altra aver ben chiaro quali sono le priorità sicuramente una priorità che ci sta a cuore sin da quando siamo nati è finalmente abbattere le barriere architettoniche perché le ultime giunte a Guzzi e Seri hanno fatto l'ennesima progettazione di quali sono le barriere architettoniche a Fano questo ormai lo sappiamo da un sacco di tempo non abbiamo bisogno di questo abbiamo bisogno di abbatterle in tutte le strutture pubbliche soprattutto incentivando poi il privato a fare altrettanto a me sembra che queste siano le priorità dopodiché asfaltare le buche ma questa è la normalità non ci vuole diciamo chissà quale politica per fare queste scelte queste vanno fatte ovviamente con i fondi che si riescono a intercettare Alessandro Brandoni porterete a termine quanto impostato per prima cosa mi viene mi viene da fare una battuta perché quello delle buche mi sembra a questo punto un problema sociale perché di dipendenza sembra che a Fano ci sia in questi 30 anni che sono stati citati un problema di dipendenza in altre città quindi le buche non possiamo fare a meno delle buche in altre città il problema è stato risolto i soldi in questi anni c'erano e la manutenzione ordinaria si poteva fare purtroppo ci si è dedicati più come ha detto bene Benini anche a me piace usare quella parola all'abbellimento delle corti condominali per far contento qualche residente o per semplicemente gratificare un po' il proprio ego quindi sui lavori pubblici c'è da dire una cosa molto importante il piano triennale delle opere che è ancora previsto è un libro dei sogni perché i soldi non ci sono più noi la prima cosa che faremo una volta se i cittadini decideranno di farci diventare amministratori di questa città è verificare puntualmente lo stato dei progetti se ci sono delle conflittualità anche dal punto di vista legale perché non scordiamoci anche nel PRG adesso sono state sollevate delle eccezioni che ancora sono ancora da chiarire e questo riguarda anche altre opere altri investimenti quindi dobbiamo fare una verifica puntuale di quello che c'è poi chiaramente su questo andremo a innestare quelli che sono i nostri progetti il progetto sicuramente principale è quello del restyling del lungomare io lo chiamo lungomare non waterfront e anche lì effettivamente la distruzione dell'anfiteatro Rastat è stato uno scempio è stato uno scempio perché abbiamo speso inutilmente qualche milione di euro potevamo andare a sistemare quello che c'era andare a prevedere un riabbellimento della passeggiata e invece adesso ci troviamo con un'opera unica dovremo ritrovare le risorse per procedere con il restauro di tutto quello del resto quindi sicuramente c'è stata una visione che è stata completamente sbagliata si sono state fatte tante cose completamente scollegate tra loro questo a proposito prima si parlava di temi di collegamento tra uffici tra assessorati tra visione di città io credo che questa cosa rimane nelle parole è bella da dire ma non è stata fatta basti pensare e torniamo per chiudere agli asfalti che io vedo delle strade che sono state asfaltate qualche anno fa non voglio dire mesi adesso oggi si asfalta una strada dove sono residenti si riasfalta perché è stata distrutta dal lavoro dei sottoservizi allora questa cosa è da fermare se un'azienda deve realizzare dei sottoservizi o non lo fa prima che dei due anni dove è stato fatto l'asfalto oppure nel momento in cui perché c'è una rottura deve intervenire deve andare ad asfaltare tutta la strada tutto quello che ha rotto non può lasciare perché abbiamo delle vie mi viene in mente il lido che adesso sono che erano perfette sono diventate sono state distrutte sì parliamo ora di un tema controverso non che quelli che vi abbiamo proposto non siano stati controversi però comunque questo lo è in modo particolare parliamo del piano delle antenne il comune sappiamo si trova in mezzo a un guado si dice che non può valersi della collaborazione dell'ARPAM perché l'ARPAM non ha un personale non ha personale sufficiente gli operatori delle società che gestiscono gli impianti prevalgono sulla scelta dei siti e i cittadini protestano e temono ripercussioni per la loro salute questa dovrebbe essere a tratti a subitratti la situazione ma quali decisioni assumereste se vincerete le elezioni la prima domanda la faccio a Benini ma come noto io ho lavorato 30 anni nel settore delle antenne e del rumore e credo che quello che è stato fatto fino a pochi anni fa è stata una grandissima tutela della salute dei cittadini perché non solo abbiamo ovviamente come ARPA fatto in modo che venissero sempre rispettati i limiti di legge che sono dei limiti per le antene molto bassi più bassi in Europa sostanzialmente più bassi al mondo e quindi noi abbiamo ottenuto attraverso degli studi preventivi che ho proposto ormai più di vent'anni fa ai principali comuni della nostra provincia abbiamo ottenuto una minimizzazione dell'esposizione della popolazione perché noi facevamo lo studio del territorio individuavamo i siti idonei e quindi i gestori potevano proporre le loro antenne solo nei siti idonei e solo dopo che il nostro studio aveva ottimizzato e minimizzato l'esposizione della popolazione io credo che questa sia la strada da perseguire purtroppo negli ultimi anni non è stato così oggettivamente l'ARPA è ridotta a brandelli direi è in uno stato comatoso e qui visto che c'è anche un rappresentante del centro-destra io lo inviterei fortemente a intervenire sulla regione perché la regione Marche continua a sottopagare l'ARPA per cui rispetto a regioni vicine l'ARPA Marche è finanziata per la metà di quello che dovrebbe essere ha la metà del personale molto meno strumentazione e quindi si trova in grandissima difficoltà quando è il momento di intervenire mi permetto di aggiungere la questione del rumore perché in questi mesi si è parlato anche della questione del rumore e ho sentito francamente dei discorsi che non stanno né in cielo né in terra un po' da parte di tutti forse perché appunto non conoscendo la materia ognuno ha detto la sua il territorio del comune di Fano da molti anni ha una classificazione acustica e come in tutta Italia ci sono dei limiti molto molto chiari ora non c'è nessun bisogno di andare ad esempio a stabilire che la zona di Montegiove è una zona che deve avere chissà quale tutela nella zona di Montegiove come in tutta la zona di Fano del Lido e della Sassonia d'estate i limiti di legge del rumore sono sistematicamente violati qual è il problema il problema è che nessuno va a fare le misure per i motivi che dicevo prima perché l'ARPA non ha il personale non c'è nulla da fare se no da far rispettare la legge siccome siamo partiti in po' a ritardo con il timer regia aspettiamo una decina di secondi poi facciamo partire quello di Brandone intanto puoi iniziare a rispondere prego io sarò anche molto più breve perché mi sento con questa domanda un po' tra due antenne no? scusate la battuta allora io ho ascoltato con attenzione quello che ha detto Benini e sicuramente ha ragione l'ARPA è assolutamente da rafforzare perché svolge un ruolo di controllo molto importante so qual è quella che è stata fatta perché poi è stata portata in consiglio comunale la scelta che ha fatto questa amministrazione riguardo alla creazione di un piano d'antenne affidato ad un'azienda privata che non svolge la funzione di controllo come invece fa l'ARPA ma svolge semplicemente proprio questa azione di programmazione e pianificazione e lo fa per le amministrazioni è una scelta tutto sommato che posso dire condivisibile è una scelta utile quello che mi sento di dire è che come futura amministrazione ci sono delle situazioni riguardo all'antenne visto che c'è la possibilità di poter intervenire anche riguardo a quelle che saranno le evidenze del piano delle antenne quindi quello che verrà rilevato dal punto di vista delle emissioni c'è la possibilità da parte dell'amministrazione senza ledere i diritti di nessuno di poter andare a fare delle trasformazioni una di quelle che faremo sicuramente sarà riguarderà quella indecenza che è l'antenna che noi troviamo alla rotatoria diciamo di Sant'Orso quando entriamo a Fano che oltre a essere brutta è anche molto probabilmente troppo vicina alle case e troppo pericolosa dal punto di vista delle emissioni quindi quell'antenna lì ci prendiamo l'impegno di poterla spostare un'altra questione che riguarda l'antenna di cui mi sono interessato e che mi fa sorridere da un certo punto di vista perché è stata al centro di numerose promesse elettorali di chi oggi si candida a essere sindaco è quella del torniamo sempre allo stadio delle antenne che sono nelle vecchie torri faro che sono ancora piazzate lì che sono a 20 metri dalle abitazioni adesso io vorrei vedere le evidenze dello studio ma io sono sono convinto che si possa andare a trovare con le compagnie telefoniche una soluzione per spostarle per togliere quelle torri che sono anche vecchie e presentano anche dei problemi a mio avviso probabilmente di sicurezza se non li presentano li presenteranno quindi quella è un'altra cosa che vorremmo assolutamente risolvere bene lupa in fabula cora fattori allora la prima correzione la faccio a te Massimo il comune non è in un guado attenzione io sono arrivata il 6 ottobre 2022 sul tavolo ho trovato diversi dossier tra cui quello delle antenne e lì nel 2022 eravamo in un guado perché noi stavamo perdendo sistematicamente le cause di ricorso al TAR che ci facevano le compagnie delle antenne perché perché il piano antenne che fino al 2019 aveva tenuto era fatto bene per il tempo non teneva più e perché a me dispiace caro Luciano ma non era assolutamente come dici tu che era stato fatto guardando il minimo impatto probabilmente sì ma non c'era una dimostrazione oggettiva che reggesse durante le cause tanto che le perdevamo abbiamo cercato una società che fosse di comprovata esperienza e siamo stati fortunati perché l'abbiamo trovata che gestiva anche Pesaro e ricordiamoci che i punti più delicati sono quelli paesaggistici attorno a Fenile e a Carignano e di contro Novilara e quindi è bene avere una società che segua il tutto perché anche la divisione tra comuni non è mai così nitta e quindi analizzare il piano antenne nella sua complessità anche da quel punto di vista è stato molto importante e abbiamo visto che tutte le cause che vengono fatte a comuni che usano quel tipo di approccio vengono vinte ora capiamo bene questa cosa l'altro aspetto io finalmente ho l'evidenza cioè noi siamo in grado adesso di pubblicare le analisi già le abbiamo fatte durante gli incontri pubblici le analisi fatte dalla società in questione incaricata in cui tu vedi dove è l'antenna e qual è il suo impatto elettromagnetico nel territorio e nelle case questo è molto importante perché con i secondo me non si può gestire un tema così complesso ma la si può gestire con l'evidenza e non lo potevamo chiedere ad ARPAM perché come lo stesso dottor Benini ha evidenziato ARPAM nel corso degli anni è stata scarnificata da quel punto di vista e non fa quel tipo di lavoro non adesso non nelle marche Massimo prego allora si siamo all'ultima domanda io comunque volevo dire ancora a fattori che il comune in mezzo a un guado voleva dire che da una parte c'ha le proteste dei residenti e dall'altra c'ha i diritti degli operatori il comune nel mezzo ecco perché era in mezzo al guado non volevo dire che era inerte ecco questo volevo precisare passiamo ad un altro argomento non ho mai visto un bilancio predisposto dalla giunta di qualsiasi giunta dico approvato all'unanimità così come non ho mai visto un piano regolatore condiviso anche dall'opposizione ebbene non trovate che un eccessivo antagonismo si traduca in un danno per tutta la città a Pesaro non è così a Pesaro quando ci sono opere che procurano un beneficio alla città non vengono ostacolate a Fano non c'è un progetto invece che non evidenzi una critica magari anche se il più bello si trova sempre qualcosa una zeppa per mettergli in mezzo continuerete a comportarvi così se vincerete le elezioni vorrei che rispondesse per primo Alessandro Brandoni se vinceremo le elezioni non ci comporteremo così perché non saremo più all'opposizione forse lo faranno gli altri detto questo e se non le vincerete vedremo vedremo detto questo riguarda Pesaro io credo che a Fano e questa è una frase che credo di aver sentito dal sindaco anche in passato in qualche intervista a Fano c'è una vivacità politica che da sempre Fano è sempre stato un laboratorio politico a livello quasi nazionale a volte proponendo anche delle alleanze e dei temi nuovi quindi a Fano sicuramente c'è una critica sempre più pungente un'attenzione dei cittadini ai temi della politica molto viva si vede dall'ascolto quando si va nei quartieri detto questo quello che posso dire riguardo secondo me la critica è fondamentale nel senso deve essere sempre costruttiva deve essere sempre deve essere sempre giustificata deve essere sempre ben motivata e puntuale perché dove non c'è critica non c'è non c'è proprio il succo della politica e per quello che riguarda non so se Massimo tu facevi riferimento al bilancio in questi mesi si è parlato del bilancio partecipato che è stato sicuramente una una iniziativa lodevole che ha riscosso un grande un grande interesse da parte dei cittadini che hanno presentato un sacco di progetti ed è sicuramente un'occasione è stata sicuramente un'occasione a me sembra che dal punto di vista puramente però di quello che riguarda la condotta finale come è stata gestita questa operazione mi sembra un'operazione però un po' populistica perché alla fine si è deciso di premiare un po' tutti visto che siamo in clima elettorale quindi tutti i progetti hanno ricevuto hanno ricevuto un'approvazione per quello che riguarda invece il discorso del bilancio vero e proprio io credo che delle problematiche derivano proprio dalla totale assenza della trasparenza del bilancio del comune di Fano cioè ovvero anche i consiglieri comunali quando vanno a votare delle cose non hanno la contezza di sapere a meno che di non aver approfondito dettagliatamente con gli uffici preposti di sapere quali sono voce per voce le spese che vengono fatte e quindi proporrei sicuramente se mi fosse data l'opportunità una specie di bilancio semplificato cioè dove la gente e i consiglieri comunali possano capire che cosa c'è dentro noi abbiamo avuto il caso adesso l'ultimo delle diciamo le spese la festa elettorale del sindaco che si è scoperta nelle pieghe di bilancio e faccio i complimenti ai colleghi dei Cinque Stelle che sono stati i primi a portarla alla luce praticamente bisognava votare in un capitolo nei capitoli di spesa del bilancio delle variazioni di bilancio c'erano anche 30.000 euro per la festa del sindaco ecco quella cosa non andava bene si è scoperta ed è stata giustamente cassata bene Cora Fattori scusate si è scoperta la spesa la festa elettorale del sindaco era un'iniziativa di fine mandato per spiegare quanto era stato fatto nel corso dei dieci anni tra l'altro lo dice quella che è arrivata l'ultimo anno e mezzo scarso quindi non è che se difendo la cosa è per questioni personali perché però è stato fatto un po' di cose in un anno e mezzo devo dire però mi sembra esagerato sembra che chissà è normale che te a fine mandato comunque fai un resoconto anche alla città anche per rendere atto di come appunto di come hai amministrato il bene pubblico e tutto la domanda che hai fatto Massimo secondo me è molto pertinente perché capita sia in maggioranza che in opposizione a volte anche quando le opposizioni presentano una mozione di quell'atteggiamento di bocciarla prioristicamente cosa che non mi è mai piaciuta tanto è vero che molto spesso abbiamo anche quando le abbiamo bocciate personalmente è stato sempre per perché magari erano funzionali a cose che già stavamo facendo e quindi era semplicemente una velleità politica quando invece davano un plus valore mi ricordo ad esempio la mozione poi di Scopelliti che aveva fatto sulla Smart City quello ne riconosco la validità o quando era presentata anche una mozione dei 5 stelle sull'ambiente questo proprio per essere trasversale e auspico di vincere come centro-sinistra e che il centro-sinistra possa proseguire con rinnovata energia e con un programma e già in mente ci sono tante cose un metodo di lavoro assolutamente nuovo ma qualora non dovesse avvenire questo io spero vivamente di ritrovarmi a votare favorevole a un programma a un bilancio di un'eventuale diversa maggioranza perché vuol dire che sarà una cosa positiva per me come cittadina quindi questa è una speranza sincera che ho e posso dire che se dovessi votare contrariamente sarà perché ritengo che magari non rispetta determinati requisiti che a me che per me sono importanti nella politica poi si possono fare le stesse cose a proposito il bilancio partecipato ce lo spiega in modo in modo differente questo fa vedere la differente concezione politica che abbiamo per quanto riguarda il bilancio partecipato ad esempio lo dirò in maniera impopolare ma anche io ero contraria nell'aumentare il finanziamento ero un po' combattuta perché da un lato i progetti erano tutti belli e tutti meritevoli di proseguire e anche l'opposizione che con noi ha collaborato tantissimo in particolare il Movimento 5 Stelle comunque ci teneva a dare assieme ai miei colleghi di maggioranza dovuta valutazione a questi progetti però ritenevo che fosse importante anche portare la città nella complessità di scelta perché non si può fare tutto in amministrazione bisogna scegliere e scegliere ti dà la cifra di quello che preferisci e delle priorità che hai ecco perché non ero proprio convinta però sono stata comunque contenta di questa scelta Luciano Benini critiche a oltranza oppure? No critiche a oltranza assolutamente no quando è possibile va sostenuta qualunque amministrazione è vero però che il bilancio e il piano regolatore generale sono i due strumenti più importanti di un'amministrazione siccome la politica è scelta è chiaro che ci si differenzia proprio sulle questioni più rilevanti voglio far presente questo allora il bilancio partecipato siccome noi abbiamo nel nostro programma la rinascita dei consigli di quartiere il bilancio partecipato si sposa molto bene perché saranno i quartieri ad indicare quali sono le priorità appunto di quel quartiere chi meglio delle persone che ci vivono sanno individuarle una piccola curiosità sono andato a rivedere perché io ho un po' un archivio visto che frequento il consiglio comunale da qualche anno il 16 aprile 2010 come bene comune presentammo due mozioni entrambe votate contro da destra e sinistra che non è un caso sul bilancio partecipato e sul divieto di installare a terra impianti fotovoltaici se ci avessero ascoltato probabilmente queste cose sarebbero partite prima sul PRG l'attuale amministrazione una delle poche cose che io le riconosco positiva è il progetto Orizzonte Fano 2030 cioè era stato un inizio molto bello perché questa amministrazione per la prima volta aveva deciso dobbiamo partire col PRG coinvolgiamo tutta la città in modo che il PRG venga costruito col contributo di tutti era un metodo molto bello e avrebbe potuto portare ad una condivisione quindi a evitare di votare sempre contro a qualunque cosa propone l'altra parte politica purtroppo questo processo è stato interrotto sono passati anni e tutto un momento proprio sotto le elezioni che è una cosa veramente che non si può vedere perché sotto le elezioni il piano regolatore diventa il mercato delle vacche sostanzialmente perché è il momento in cui tu puoi in qualche modo dare gradimento a quello o a quell'altro è arrivato il piano regolatore che non aveva nulla praticamente di ciò che si era ragionato anni prima e che era stato invece una bella occasione ecco quindi credo che la questione è il metodo cioè la nostra idea di politica non è quella facciamo noi nelle segrete stanze questa amministrazione spesso ha messo con utente e password sul comune dei progetti perché i cittadini non lo sapessero ma che senso ha veramente non ha nessun senso la nostra idea invece è di coinvolgere in tutta la progettualità i cittadini in modo che non succeda che una mattina uno si sveglia e si trova davanti a casa che sta sorgendo chissà che cosa ma appunto ci sia la possibilità di concorrere alla costruzione dei più bei progetti e delle più belle iniziative della città facendo questo è anche più facile trovare il consenso piuttosto che inventarsi all'ultimo momento cose che i cittadini scoprono appunto all'ultimo momento siamo arrivati alla chiusura al termine anche di questa puntata di Occhio al Voto ringrazio e saluto Luciano Benini candidato al Consiglio Comunale di Fano con Bene Comune Alessandro Brandoni candidato al Consiglio Comunale con la Lega e Corra Fattori candidata con Pio Europa lista Cifica F grazie e grazie come sempre anche alla giornalista Massimo Foghetti io ringrazio pure voi per averci seguito vi do appuntamento a lunedì prossimo 29 aprile con una nuova puntata di Occhio al Voto arrivederci a lunedì prossimo a lunedì prossimo Grazie a tutti.